L'alta pressione che per diverse settimane si era stabilita sull'Italia si è definitivamente arresa e gli esperti del meteo hanno subito lanciato l'allarme. E' in arrivo la tempesta di Natale, provocata da un potente ciclone atlantico che colpirà un po' tutte le regioni della nostra penisola. Sono previste piogge, venti fortissimi, mareggiate e abbondanti nevicate, sia in pianura che in alta montagna. Un leggero miglioramento è previsto soltanto a partire da venerdì 27. Il generale Inverno è dunque arrivato con tutte le sue truppe. Sempre secondo le previsioni, la stagione sarà veramente fredda, con gelo e neve, soprattutto tra gennaio e febbraio.